Nato a Bucharest in Romania il 21 gennaio 1993, Richard Gabriel Marconi è stato valorizzato dal vivaio del Siena. Nella passata stagione non solo è stato il portiere titolare della primavera senese, totalizzando 20 presenze dal primo minuto in altrettanti incontri, ma è anche stato convocato in prima squadra da mister Giuseppe Sannino, ex allenatore del Sutirole ora nuova guida tecnica del Palermo. Con Richard Gabriel Marconi il Sutirole ha deciso di avvalersi di un altro portiere di scuola Siena, dopo la fortunatissima esperienza della passata stagione con Alessandro Iacobucci, che nel prossimo campionato di Serie B difenderà la porta del neopromosso Spezia. Marconi è un portiere senza apparenti limiti, malgrado non sia altissimo, è però dotato di una buona elevazione e sa disimpegnarsi bene sia fra i pali che in uscita. Una delle sue migliori doti è certamente la reattività, come se è potuto vincere nel recente match di Coppa Italia Team Cup contro il Cuneo, dove è risultato decisivo con alcuni pregevoli interventi nel corso dei tempi supplementari, per poi suggellare la sua eccellente prestazione, parando il rigor decisivo che ha spianato la sua squadra, la strada verso la qualificazione alla fase successiva della rassegna tricolore. Il suo carattere estroverso e la sua simpatia lo hanno agevolato nell'integrarsi rapidamente nella nuova realtà altootesina. Il suo obiettivo stagionale è quello di far sì che il Sutirole possa diventare un trampolino di lancio verso categorie superiori, così come è stato per il suo predecessore Alessandro Iacobucci, del quale vorrebbe ripercorrere le orme anche nella nazionale Under 20, essendo in odore di convocazione. Marcone è arrivato a Sutirole in prestito, dopo che Siena e Vicenza si sono accordati per la comproprietà del 19enne portiere italo-rumeno.